Oltre 140 morti a Damasco e Homs per il segretario di Stato americano Kerry, accordo per la tregua. Il ciclone Winston lascia 20 morti e 6.000 sfollati nelle isole Fiji. In Repubblica Centroafricana attuaderà eletto presidente. Giornata mondiale della giustizia sociale, impegno dell'ONU a combattere le diseguaglianze. Ben trovati al nuovo appuntamento con il TgMondo, notizie dai cinque continenti. Non si fermano le violenze in Siria. Il sedicente Stato islamico ha rivendicato gli attentati che domenica hanno scosso le città di Damasco e Homs, provocando almeno 146 morti. Oltre 180 invece le vittime, secondo altre fonti locali. Gli attacchi a Damasco e Homs rientrano tra gli episodi più sanguinosi di cinque anni di guerra civile siriana. Le stragi sono avvenute in un distretto della capitale in cui si trova un importante santuario sciita con la tomba della nipote di Maometto. Violenze si sono registrate anche ad est di Aleppo. In contrasto con la realtà sul terreno, arriva nella stessa giornata l'annuncio del segretario di Stato degli Stati Uniti, Kerry, circa il raggiungimento di un accordo provvisorio per un cessato il fuoco da implementare nei prossimi giorni. Lo stesso Kerry ammette però che non c'è da aspettarsi cambiamenti immediati e riferisce che nei prossimi giorni i presidenti Obama e Putin potrebbero discutere ulteriori dettagli dell'intesa. La Commissione europea non farà campagna per il referendum in Gran Bretagna e la decisione annunciata dall'esecutivo comunitario, il cui ruolo, ha spiegato la portavoce, era da facilitatori tra la Gran Bretagna e gli altri 27 stati membri. E mentre il premier David Cameron ha dato le via alla sua campagna per il sì alla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, la stellina è scesa ai minimi da quasi un anno a questa parte dopo l'annuncio del sindaco di Londra Boris Johnson a favore della Brexit. L'accordo Unione Europea-Gran Bretagna in attesa del referendum dimostra che quando si vuole si possono ottenere risultati favorevoli tra le parti contraenti. Questo è il commento dell'economista Stefano Zamagni sull'intesa che in attesa del 23 del referendum del 23 giugno prossimo ha scongiurato la Brexit. E sono almeno 20 i morti provocati dal ciclone Winston che nel fine settimana ha colpito le isole Fiji. I venti che hanno raggiunto i 325 km orari hanno costretto oltre 6.000 residenti in tutto l'arcipelago a lasciare le proprie abitazioni in gran parte andate distrutte e ripararsi in rifugi di emergenza. Rimettere in sesto uno dei paesi più poveri del mondo appena uscito e forse non del tutto da un devastante conflitto interconfessionale non sarà facile per Faustine Arcange Tuaderà appena eletto presidente in Repubblica Centroafricana. Il 58enne ex primo ministro ha raccolto al secondo turno quasi il 63% dei consensi contro il 37,5% del suo rivale Dolouglet che ha riconosciuto la sconfitta. Risultato parzialmente sorprendente per cui Tuaderà si era presentato come candidato indipendente ed era giunto solo secondo al primo turno preceduto di oltre quattro lunghezze dal rivale che aveva condotto una campagna elettorale molto più vistosa e dispendiosa. Questo dimostra che il popolo vuole completare la transizione dopo la grave crisi che sconvolge il nostro paese dal 2013 e questo il commento del neopresidente. E si svolge questa domenica in un clima di tensione il primo turno delle elezioni presidenziali in Niger, paese a maggioranza musulmana. Il presidente uscente, Mamadou Isouf, sfida bene 14 candidati dell'opposizione. Le violenze degli estremisti islamisti di Boko Haram hanno causato la fuga di 300.000 civili sfollati nella regione di Diffa, nel sud-est del paese. Anche la piccola minoranza cristiana ha subito attacchi nei campi profughi. 5.500 bambini possono andare oggi a scuola solo grazie a interventi umanitari. E in Uganda c'è preoccupazione nella comunità dopo il voto che è allargamente confermato alla presidenza Ioveri Museveni. Dopo l'arresto dei candidati dell'opposizione sono state decise misure di forte limitazione delle libertà civili. Museveni, l'inossidabile presidente ugandese, non teme le critiche dei suoi avversari politici e in generale degli osservatori internazionali. Ufficialmente avrebbe vinto con il 60% delle preferenze, ma a crederci sono davvero in pochi, a cominciare dagli osservatori dell'Unione Europea che hanno definito l'atmosfera intimidatoria. Ed è ancora incerto il risultato del referendum indetto in Bolivia per consentire al presidente Evo Morales di presentarsi per un quarto mandato consecutivo. Secondo i primissimi risultati ufficiali, però, il 66% degli elettori avrebbe respinto la proposta. I due principali istituti demoscopici privati confermano la tendenza, ma con una margine di appena due punti di differenza con i voti favorevoli. Il vicepresidente, Alvaro Garcia Linera, ha parlato di pareggio tecnico e ha chiesto di attendere i risultati definitivi che verranno resi noti nelle prossime ore. Ha ricordato, inoltre, che in passato le proiezioni private si sono rivelate sbagliate e che i voti delle zone dell'interno, dove Evo Morales è molto popolare, sono gli ultimi ad arrivare. E si è celebrata in questi giorni la giornata mondiale della giustizia sociale, istituita dall'ONU nel 2007 per invitare gli stati membri a riflettere sui temi come sviluppo sociale, povertà, disuguaglianze e su tutti quei fattori che creano distanze tra gli uomini. Il tema di quest'anno è stata la lotta al traffico di esseri umani e alle moderne forme di schiavitù, dinamiche che accompagnano un'epoca di crisi, conflitti e imponenti migrazioni, in una continua e spesso caotica globalizzazione economica, culturale e sociale, con un'Europa sempre più sottoposta alla pressione del cambiamento del mondo che la circonda. Stefano Pesce, di Radio Vaticana, ha chiesto un commento a Giuseppe Iuliano, che è il responsabile del Dipartimento Politiche Internazionali della CIS. Lo ascoltiamo, è il nostro approfondimento di questa sera. Noi come espressioni del Movimento Sindacale, che credono fondamentalmente nei diritti umani fondamentali, nei diritti soprattutto dei lavoratori, che ancora oggi rappresentano la parte più debole della società, non possiamo che salutare un'iniziativa del genere. Stiamo sottolineando il rapporto forte tra diritti individuali e diritti collettivi. E oggi grandi fasce di popolazione dell'umanità hanno bisogno di maggiore attenzione da parte di tutta la comunità internazionale. Giustizia sociale, crisi umanitarie, migrazioni e sfruttamento del lavoro sono termini che mai, come in quest'epoca, viaggiano su uno stesso binario. Bisogna distinguere la realtà dalla percezione della realtà. Nel 2014, in un paese come l'Italia, sono stati più gli italiani che hanno lasciato il nostro paese che piuttosto i migranti che sono entrati nel nostro paese. È purtroppo vero che la concentrazione del fenomeno su tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea sta mettendo in discussione il principio di Schengen, quindi uno dei principi fondanti dell'Unione Europea, quello della libera circolazione. Noi dobbiamo salvaguardare questo principio e nello stesso tempo, in qualche modo, permettere che non si perda lo spirito dell'accoglienza. Sono persone che scappano da situazioni di guerra, di tortura, di pericolo della loro dignità di persone e quindi cercano accoglienza per la sopravvivenza, soprattutto per se stessi e per le proprie famiglie. Per il perseguimento della giustizia sociale, la globalizzazione è un tema fondante. L'ONU ha adottato la dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. Ma che cos'è la globalizzazione giusta? Una globalizzazione giusta è quella che, mentre favorisce, abbatte barriere, toglie dogani, permette anche che le persone possano essere riconosciute con tutta la loro piena dignità nella circolazione e nei loro diritti. Per 50 anni, forse di più, 70 anni, il diritto di cittadinanza era legato all'identità sociale, a un lavoro e a un territorio. La globalizzazione ha messo in discussione questo. Oggi non c'è più un'identità sociale che si riconosce con un diritto di cittadinanza, con un'identità sociale, con un lavoro e con un territorio, perché le persone sono costrette a cambiare lavori durante la propria vita, a spostarsi per poter cercare questo lavoro. Allora noi dobbiamo cercare un nuovo contratto sociale per questo nuovo millennio, che possa ricostruire un welfare, così come abbiamo potuto sperimentare in momenti di ricostruzione della democrazia dopo, per esempio, l'ultimo conflitto mondiale. Com'è possibile conciliare il tema della giustizia sociale con il fatto che, ad oggi, la metà di tutta la ricchezza generata nel mondo è nelle mani dell'1% della popolazione? C'è da dire una cosa. Mai come in questa fase della storia dell'umanità il mondo è capace di produrre ricchezza. Eppure mai come in questa fase il mondo è nella incapacità di distribuire questa ricchezza prodotta. Quindi è un problema di distribuzione, quindi è un problema politico, quindi è nelle mani degli uomini, dei decisori. Ed è tutto per questa lezione di TG Mondo. L'informazione dei Cinque Continenti torna settimana prossima. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Grazie per essere stati con noi.